E noi restiamo, torniamo in diretta con i bellissimi dettagli del nostro angolo di Natale. Restiamo in Puglia, stavo dicendo, perché ci collegheremo adesso con Gianluca Palma della Scatola di Latta. Un progetto davvero molto bello, interessante, affascinante. Gianluca è in collegamento con noi, lo vedo nel nostro maxi schermo. Mi auguro ci senta già e spero che anche noi riusciamo a sentire lui. Salve, buongiorno a tutti e a tutte. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno, ben trovato. Grazie per il tuo tempo. Ci ha subito colpito molto non solo il titolo del tuo progetto, il contenitore, la scatola di latta, ma anche le tantissime iniziative che ci sono all'interno di questa scatola, per cui con l'aiuto della regia andiamo a scoprire anche il sito web di questo progetto molto interessante. È a te il compito di spiegarci che cos'è? Sì, l'idea della scatola di latta nasce circa dieci anni fa, come se fosse un contenitore di storie, di luoghi e di persone. Quindi questa scatola si usuriscono lungo questo cammino che ormai ha custodito anche tante belle storie dal Salento ma anche dal Meridione, quindi le prime cose che abbiamo fatto e che facciamo spesso sono le passeggiate comunitarie, sono queste occasioni di incontro fra persone, fra indigeni e forestieri, fra la comunità locale e le persone che abitano i paesi o i luoghi del Salento, fino a fare delle iniziative che hanno toccato alcuni paesi della Calabria, della Lucania, della Basilicata, del Molise. Quindi abbiamo in questi anni fatto sfatato molto spesso la parola non c'è niente in quel paese, quindi penso nel mio territorio, quindi nella provincia di Lecce abbiamo visitato quasi tutti i paesi e le frazioni della provincia leccese che sono 96 comuni e 45 frazioni, quindi in ogni comune e frazione noi abbiamo fatto qualcosa che può essere la passeggiata, la domenica pomeriggio che è un'alternativa alla visita del centro commerciale e quindi noi spesso ci siamo incontrati la domenica pomeriggio proprio per dire venite con noi, proviamo a consumare di meno prodotti fisici ma proviamo a vivere meglio le relazioni dei luoghi, utilizziamo anche la littorina o comunque il treno locale delle ferrovie sud-est, nel nostro caso ex ferrovie sud-est, da una parte per esempio visitare, vedere il paesaggio che si può carpire dal treno ma anche per un modo critico, per un modo di attivazione anche delle persone comuni che qui nel Salento, credo anche in diverse altre parti del sud Italia, non utilizzano il treno, vuoi perché sicuramente non funzionano tante cose, magari sono poche tratte, poche corse, però l'idea di attivare dal basso dei processi di conoscenza e di riconoscenza e di partecipazione credo che sia importante e quindi passeggiate, viaggi in Vittorina, andiamo a spasso con i sindaci, dopo chiedendo anche che cosa e qual è il futuro del tuo paese, noi chiediamo al sindaco, penso al discorso del calo demografico che c'è nei paesi delle aree interne, nei paesi dove c'è una rarifazione delle persone, quindi ci sono veramente luoghi dove vi è un calo demografico e uno spopolamento o comunque un abbandono dei luoghi e dei paesi. Quello dello spopolamento e dell'abbandono, soprattutto dei piccoli centri, purtroppo è un fenomeno che dal nord al sud tutta Italia sta vivendo ormai da diverso tempo, per cui il modello della scatola di latta sicuramente sarebbe auspicabile, fosse replicabile in tutte le aree interne del nostro grande e bel paese. Del resto lo stesso Salento, al di là del capoluogo, delle città più rinomate, è un microcosmo di bellezza infinita, mi confermerai? Sicuramente, sicuramente noi partiamo ovviamente dal nostro territorio, ci sono tanti paesi che si mettono a festa da giugno, luglio fino a settembre, ottobre, quindi c'è questo grande discorso dell'industria turistica, della turistificazione, della gentrificazione, comunque noi abbiamo lanciato anche un progetto che si chiama provocativamente lo spaesario salentino, noi diciamo che bisogna tornare a perdersi, a perdersi nei luoghi e quindi facciamo, pratichiamo degli esercizi di spaesamento, esercizi dove noi diciamo ci si incontri in un luogo magari lunedì sera in un paesino di 500, 1000, 2000 abitanti per dire cosa accade la sera nella provincia del Cese, cosa accade la sera a Frigole, cosa accade la sera ad Acaglia, a Vance che sono alcuni nomi un po' più, meno conosciuti, penso Cocumola che è un paese che è molto caro a Vittorio Bodini, al poeta Vittorio Bodini che da Cocumola poi ci ha fatto una poesia dandogli un verbo Cocumola, quindi ci sono felline, sono alcuni paesi interessantissimi, ma penso anche alla vostra provincia, che cosa accade la sera a Faeto, cosa accade ad Accadia, cosa accade un pomeriggio di domenica a Lesina, cioè l'idea di vivere ordinariamente ma anche a livello straordinariamente anche in luoghi con persone che arrivano e quindi posso anche dirvi che nel 28 e 29 esempio di dicembre ritorneremo in Molise con questa scuola per restare in Molise dove ci incontreremo esempio in un luogo, in un ospede di caffè letterario, dove parleremo di partenze, ritorni e restanze dal Molise, questo termine molto caro a cui dobbiamo, al professore Vito Teti, questo antropologo calabrese che ha cognato questo termine che ormai è anche nel libro, che sono nel dizionario Garzanti, dove vuol dire restare in un luogo con lo spirito del viaggiatore, quindi restanza, avere sempre questo spesamento, questa meraviglia di vedere i luoghi, che non è facile, lo si fa insieme. Gianluca, è un po' difficile farti delle domande, perché sei molto bravo, saresti ottimo secondo me come consulente del Ministero della Cultura o dell'Istruzione, perché hai dato una marea di input che mancano probabilmente lassù, e tu hai capito perché uso questo tipo di avverbio. Un fio in piena, sei stato. Però volevo comunque farti una domanda, proprio perché voi dite storie, luoghi e persone, il periodo delle feste di Natale, sempre di più mi sembra, sta diventando un periodo che per anche chi ha famiglia, anche chi non si sente solo, comunque ha desiderio di aprire le proprie finestre, di non stare per forza al calduccio davanti al focolare. Che cosa significa secondo te veramente il Natale a livello proprio di interstizi umani, chiamiamolo così? Premetto in maniera veloce che il Covid ha segnato molto, almeno dalla mia esperienza, ha segnato molto le relazioni, diciamo che ha accelerato un processo di relazioni digitali, relazioni liquide, quindi le persone sono arroccate molto, almeno questo è quello che vedo, si sono molto rintanate. Però ad esempio noi il 23 dicembre, questo è il quinto anno, ci scambieremo gli auguri scomodi, richiamandoci alla lettera che schrisse Don Tonino Bello, che è lui nella tomba, insomma al cimitero di Alessano, quindi richiamandoci a questo concetto degli auguri scomodi, ci incontreremo intorno alla tomba il 23 dicembre di Don Tonino, per dirci, per scambiarci questi auguri scomodi, per dirci le cose che non vanno, e ci sono tante cose che in questo momento non vanno, dalle guerre al cambiamento climatico, ai cambiamenti climatici, e quindi bisogna ancora di più essere partecipi alla vita dei paesi e del mondo, bisogna avere uno sguardo glocale, avere i piedi sì sulla propria terra, appoggiati e calpestarla quella terra, conoscerla, ma avere lo sguardo anche nel mondo, perché ormai non è più tempo di chiacchiere, non voglio dire del bla 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 come può dire Greta, ma anche quello che è successo alla COP28, quindi dobbiamo essere veramente attivi e partecipi, quindi che il Natale sia di nuovo un'occasione per riflettere, per essere vicino agli ultimi, e poi c'è sempre da capire chi sono veramente gli ultimi, se sono quelli che i poveri, ma di cosa io credo che bisogna riflettere su che cosa è essere povero, essere povero di spirito, di valori o di soldi, io veramente imparo più da una persona, fra virgolette, diversa, che da una persona ricchissima, che magari disprezza tutti e magari l'ambiente. Gianluca, sei stato davvero straordinario, bellissima la chiacchierata che abbiamo avuto l'opportunità di fare con te, purtroppo in tv il tempo evapora, per cui il nostro è già finito, e però se a te facesse piacere mi piacerebbe ritrovarti da qui all'Epifania per parlare ancora con te dei tuoi progetti, anche perché di Daimon, la scuola per restare abbiamo fatto solo qualche cenno, è fatto solo qualche cenno, per cui ecco se potesse farti piacere magari ci ritroviamo in diretta su Padre Pio TV o prima della fine dell'anno o prima dell'Epifania, va bene? Sì, sì, con grande piacere, magari vi racconto proprio questa scuola per restare la nuova edizione che faremo insomma in Molise, vi racconto un po' cosa è successo. Un 2024 davvero nuovo per tutti noi, speriamo anche all'insegna di questi valori e soprattutto grazie intanto al nostro ospite e anche buon Natale. Tanti cari auguri, Gianluca, allora il nostro non è un addio, ma un arrivederci a presto. Salve, buone feste, buon Natale a tutti e a tutte. Abbiamo già pronto Nicola Morcavallo, ma noi passiamo prima per la regia. Grazie a tutti.